Quanto mi manca ragazzi, quanto mi manca Momo Salah, quanto mi manca Salah ragazzi Io più andrò avanti nella mia vita e più penserò che vendere Salah è stato uno dei più grandi dispiaceri da tifoso romanista Pazzesco, poi insomma non mi posso gran lamentare perché la Roma il mercato sugli esterni lo fa sempre Anche se poi un esterno come Salah non lo vedremo per anni e anni e anni Però io che sono un amante della Premier League che mi seguo gran parte delle partite dei top 5 campionati europei Ma anche molte della Serie B, vedere un gioco come Momo Salah è davvero raro E vederlo al Liverpool per me è una sofferenza pazzesca Oggi ho un Liverpool che fatica, ho un Liverpool che trova qualche difficoltà inizialmente con un Cardiff che comunque prima va sotto di due reti Poi rientra in partita e comunque preannuncia al Liverpool che avrà davanti una squadra che li metterà in difficoltà fino alla fine Poi però che succede ragazzi? Succede che Momo Salah dopo l'1-0, eravamo 2-1, dopo l'1-0 sale in cattedra Fa due assist e la pratica è chiusa, soprattutto quello che ha servito Shaqiri Poi il secondo mi sembra su Mané Ragazzi Salah anche oggi fa la differenza, con un gol e con due assist fa la differenza Io vi dico la verità, a me manca tanto Salah Perché poi è vero, sotto tanti punti di vista, sotto tanti punti di vista, e prendo anche l'iPad È vero che era una scelta che andava fatta Per quanto ne so io, almeno per quanto ne so io, Salah si è presentato davanti ai dirigenti della Roma Ha detto io, non sto scherzando, non sono ibra Non è che ha detto così però Fin da piccolo ti favo Liverpool, ero al Chelsea e ti favo Liverpool Ero al Chelsea e avevo la maglietta del Liverpool Ero al Basilei e ti favo Liverpool È stata la mia squadra fin da bambino in Egitto, ti favo Liverpool È arrivato il Liverpool, mi ho offerto 50 milioni, voglio andare Ti ho offerto 50 milioni, voglio andare Mi fai andare? Tu, insomma, inizi anche a ragionare Però ragazzi ha una sofferenza clamorosa Una sofferenza clamorosa anche perché arriva in un momento in cui Salah dimostra Che non è che fa bene perché magari le difese del campionato italiano e bla 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 Fa bene perché è un giocatore spaziale Che quest'anno è iniziato leggermente sotto tonno rispetto allo scorso anno Anche se, insomma, replicare la storia nello scorso anno ragazzi ci voleva veramente tantissimo Però è un Liverpool che con oggi alla decima partita di campionato Ragazzi va a 26 reti Prima in classifica, indipendentemente poi da quello che farà il Manchester City Che è l'altra di testa La Premier ragazzi è il campionato più bello in assoluto in questo momento E suppongo che lo sarà per tutto l'anno Basti pensare che la classifica prima di questa giornata era City e Liverpool 23, Chelsea, Arsenal e Tottenham 21 Cioè capite bene ragazzi che questa è una classifica di tutto rispetto Dove possiamo aspettarci veramente di tutto Oggi è un Liverpool che convince Che vince, convince e stravince Oggi sempre ci sarà Anzi no, domani ci sarà il Chelsea che andrà in casa del Barley Ci sarà l'Arsenal che andrà in casa del Crystal Palace Ci sarà lo United che ospiterà l'Everton E poi ci sarà Tottenham e Manchester City Ci aspetta una giornata pazzesca Con il Liverpool che conferma ancora una volta di non aspettare niente E non aspettare nessuno Di magari essere messo anche in difficoltà qualche volta Ma che, visto che c'è una mossa là Non ti basta più Pensare di poter vincere 2-1 La chiudo prima, mi metto lì E appunto porto tre punti a casa Importantissimi È un Liverpool che è in fase di palleggio Secondo me Diciamo supera Volevo usare un termine Non abbastanza colorito Però dico supera Gran parte delle squadre della Premier League Se non europei Secondo voi il Liverpool vincerà la Premier League? Fatelo solo un commento qua sotto Salah, Momo Se volessi tornare Tospito C'ho un posto a casa Te lo giuro Tospito io Dai Momo Torni Mi piace Se vi è piaciuto Se la credito ha fatto cari Iscriviti al canale Oh regà È uscito anche il video sul Sul Come cazzo Sul giocatore Che secondo me diventerà uno dei più forti al mondo Sancio Passateci Mi raccomando Guardate il video Perché tutto il momento è interessante Mi raccomando Buon ciao all'anno Ci vediamo al prossimo video Ciao regà